Scienze facili, le scoperte di Mendel Gregor Mendel era un monaco boemo, considerato il fondatore della genetica. La genetica è la scienza che studia come si trasmettono i caratteri ereditari. Mendel osservò che le piantine di pisello presentavano alcune caratteristiche semplici da individuare e catalogare. Le piante potevano avere Fusto alto o fusto basso Fiori rossi o fiori bianchi Baccelli verdi o baccelli gialli Semi lisci o semi rugosi Semi gialli o semi verdi Prima Mendel fece riprodurre le piantine per autoimpollinazione Passò il polline da un fiore all'altro della stessa piantina O dagli stami al pistillo di uno stesso fiore Con l'autoimpollinazione Mendel selezionò delle piantine cosiddette pure Che possedevano tutti gli stessi caratteri Che possedevano tutti gli stessi caratteristiche semplici da un fiore all'altro della stessa piantina